Sono Rattis, oggi abbiamo per voi il Fiat Timo Session Dragon, motore 1.6 Multijet con 120 cavalli di potenza. La possiamo trovare oggi nell'allestimento Lange in questa colorazione argentata. Possiamo visualizzare nella parte laterale questo cerchio in lega del raggio di 17 pollici. Spostandoci poi nella parte posteriore abbiamo un serbatoio della patienza di 50 metri e uno spaziosissimo bagagliaio con doppio fondo e doppia luce di cortesia. Abbiamo poi sempre nella parte posteriore retrocamera e sensore di parcheggio. Nella parte passigliero possiamo trovare cristalli elettrici, sedili interamente in tessuto con doppio attacco isofix per i bambini. Nella parte interiore invece possiamo trovare comandi al volante per la gestione delle chiamate, scrivimi la tace per la gestione appunto dell'infotainment e della radio, cambio manuale e freno in stazionamento manuale con un bracciolo molto avuto. Lange è stata inatticolata a marzo 2019 all'indata diesel con 59.600 km. e viene a visionare questa e altri fiat su vostro sito raffix.com Grazie!